Si allarga la vicenda relativa ai maltrattamenti perpetrati ai danni di sette piccoli ospiti dell'asilo in zona Maciacchini dalla loro maestra. Anche la dirigente è stata accusata di aver provato a insabbiare tutto nell'inchiesta del PM Gianfranco Gallo che ha portato a rinvio a giudizio per maltrattamenti, lesioni personali e abuso di trattamenti correttivi l'educatrice di 51 anni che è stata intanto sospesa per un anno dal servizio. L'accusa per la funzionaria comunale a capo della scuola dell'infanzia è quella di favoreggiamento. La procura aveva anche ritenuto di chiedere una misura cautelare per la donna stando agli elementi raccolti, ipotesi però rigettata dal GIP. Ma non è tutto. Oltre alla responsabilità in capo alle due donne e per cui dovranno rispondere al giudice, nell'asilo si respirava, stando alle indagini, un generale clima di omertà garantito da alcune maestre che avrebbero perfino cercato di mentire davanti agli ufficiali di polizia giudiziaria per evitare di far emergere lo scandalo. Le maestre avrebbero tentato di sostenere di non aver mai visto o sentito nulla di strano, mentre dalle intercettazioni telefoniche era evidente che molte sapevano. E addirittura si invitavano reciprocamente a non dire nulla di quanto accadeva nella classe, dove le microcamere installate dal nucleo tutela donne e minori della polizia locale, nel febbraio del 2016, hanno ripreso schiaffi, spintone, urla nelle orecchie. È stata la denuncia di un insegnante al dirigente del settore infanzia del comune che ha allertato la procura a far partire le indagini. L'amministrazione comunale, appena scattata la denuncia, nell'aprile 2016 aveva provveduto a trasferire la maestra a un altro ufficio con un incarico amministrativo e chiedendo un accertamento sanitario perché c'era il sospetto che la donna facesse abuso di alcol. Ad ottobre il medico del lavoro l'ha dichiarata idonea, il comune l'ha reintegrata in un asilo molto grande con il compito di supplente. Nei giorni scorsi per lei è arrivata la sospensione per un anno, mentre la dirigente, lo scorso febbraio, è stata trasferita a capo di un'altra unità educativa del comune di Milano.